bella raga e benvenuti in questo nuovo video come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale lasciare un like al video per supportarmi oggi siamo qui per fare un giretto in moto con una moto che ha fatto parlare molto una moto uscita nell'agosto 2021 con un motore bicilindrico da 61 cavalli e un peso di 213 chili quindi dicendovi ciò dovreste capire che è una moto adventure una moto turistica quindi come ben sapete io non sono molto per la moto turistica ma ero curioso di guidare questa moto visto che tanti ne hanno parlato davvero bene volevo provare questa motona qua mio fratello ha comprato quindi stiamo parlando della moto morini escape 2020 2023 la moto a solamente 88 chilometri quindi siamo ancora in rodaggio quindi non potremmo fare queste gran tirate o cose del genere ma andremo a provarla nei bricchi quindi nella sua natura diciamo essendo un adventure e sono curioso di vedere questa moto qua come si si comporta come si guida quindi adesso aspettiamo mio fratello che arriva che ci apre il box e andiamo a fare questo bel giro eccolo lì guardalo lì abbiamo la super escape dai dai porta qua raga poi facciamo una bella anteprima di tutta la moto e poi andremo a fare il giro beh lì che biker che ci abbiamo qua nuovo biker beh lì che bella moto commento a caldo è una bella moto è una bella moto si vede dal sorriso in faccia quando gli dicevo prenditi la moto non lo scooter è arrivato lì molto meglio no questa allora dimmi un po' a questa moto qua manca ancora dopo i mille chilometri dopo i mille chilometri manca scarico completo arro che ha già comprato ho già comprato aspettando i mille chilometri per montarlo centralina che più o meno guadagnerà sugli otto cavalli e filtro sportivo in poliester e prossimamente probabilmente monterò anche pignone e corona più piccoli da dare un po più di bassi alla moto e renderla un po più un po più sprint sprintosa in salita e che già ne ha per così però una miglioria che è da fare bene dai guardiamo un po' la moto nel dettaglio guardate il faro raga che spettacolare c'è con i due led così veramente meravigliosa la grafica un po' sporca poi questo lo sgrido io dopo non c'è problema moto davvero spettacolare secondo me esteticamente davvero davvero molto bella wow queste cose qua non si fanno mai guarda un po che roba qua è tutta da pulire vabbè l'avevi usata con la pioggia ci sta la grafica del display è davvero fighissima quando si accende perché parte tutto il logo della moto morini che è davvero molto bello cambia colore in base al giorno alla notte c'è al contamarce sulla destra abs è davvero molto molto bella secondo me ora poi in viaggio la vedremo anche le manopole con la personalizzazione moto morini tutti i loghi moto morini qua la sella comunque un bel design per essere originale scarico basso davvero molto bello ha scritto adventuring con questa grafica sul codone ha scritto xscape sul lato sono davvero una moto che mi piace tantissimo sono sincero davvero molto bella anche i carter con scritto moto morini è davvero una gran moto quindi andiamo a fare un giro però la guido io non hai detto del paracoppa ah giusto paramotore che è un optional giusto? paracoppa che è un optional quindi fatti i mille chilometri andrà sostituito sicuramente ho già comprato il paramotore e il paracarene che coprirà diciamo tutta la parte alta delle carene fino ad arrivare qua davanti che serve un po' di più per lo sterrato ma che farai? eh sì per il momento mi atterrò a stare su strada ma che è già una gran cosa essendo nuova appunto anche a diciamo proteggerla il più possibile dai eventuali dai eventuali 13 kg anche l'impianto frenante è davvero ottimo che proveremo dirai perché sono curioso di vedere come si comporta su strada questa signorina qua signorona più che signorina vabbè dai andiamo a girare che dici? oh cosa gli dici agli iscritti? di iscriversi al canale e mettere mi piace a questo video bellissimo perché è la tua bene dai raga andiamo allora ragazzi andiamo a parlare un po' precisamente di questa Morini nell'anteriore troviamo una forcella telescopica rovesciata da 50 mm timbrata Marzocchi ed è totalmente regolabile in precarico con un registro ridaurico in compressione ed estensione sempre sull'anteriore troviamo due dischi da 298 mm con pinze Brembo e una gomma da 110-80 con un cerchio da 19 raggi davvero spettacolare abbiamo un disco posteriore da 255 mm sul posteriore troviamo una gomma da 150-70 con un cerchio 17 sempre a raggi telaio in traliccio in tubi d'acciaio ad alto resistenziale sempre sul posteriore troviamo un mono ammortizzatore con precarico regolabile e registro idraulico in estensione e abbiamo come potete vedere qui due sigle molto importanti che sarebbero soft e hard per regolare l'ammortizzatore in modo più confortevole un po più rigido nel caso dell'hard scarico basso davvero spettacolare niente raga non ci rimane che provare la moto eccole ok raga ci siamo siete pronte qua c'è manuelo dietro alla grande proviamo questa ekscape con 95 kg dietro alla grande vorrei far nuotare raga mio fratello con lo sponsor del mio canale vi ricordo che se volete un portachiavi del mio canale potete contattarmi su instagram e ve ne regalo uno belline due donne sullo scooter oh mamma mia sensazione a caldo aspettiamo sto qua che si lava dai piedi chi parte raga e raga la postura in sena ragazzi è davvero comoda sia a livello di sella che a livello di impostazione di braccia belle larghe è davvero un'ottima moto a livello turistico secondo me si viaggia con questa moto qua si fa dei viaggetti niente male si scivola dietro quindi raga la sensazione di manuelo che dietro si scivola un po' vabbè problema risolvibile diciamo con una bella sella anti scivola si risolve il problema raga sta moto qua mi sorprende un sacco mi piace davvero tanto 94 km alla soglia dei mille verrà montata centralina scarico completo arro quindi acquisterà qualche cavallo di più e poi faremo il video raga perché andremo a vedere la differenza tra la giornata di oggi quindi tutto originale e tutto tranquillo e nella posizione di moto di potenziata sarò davvero curioso di vedere cosa cambierà tra le due modifiche il cupolino della moto diciamo che ripara abbastanza dal vento ma secondo me non del tutto si effettivamente c'ha un buco raga davvero enorme secondo me tra i direi 3.000 e 5.000 giri è molto morta dai 4.000 e 5.000 in su diciamo che comunque la moto comincia a diricchiare un po' anche il sound raga di questa moto mi piace davvero moltissimo quando si apre si sente una bella un bel grille della moto bello pieno e a questo punto vi posso dire che non vedo l'ora di sentirla con lo scarico completo perché a quel punto lì non ne cambieranno davvero le cose un po' morta metto un po' a prendere e ci può stare raga perché comunque vabbè ora io sono abituato a moto diverse il cbr e la dorsa duro sono moto completamente diverse e altre categorie però secondo me è una moto che se buttiamo in autostrada ci divertiamo davvero tanto riusciamo a goderci davvero i paesaggi e tutte queste cosine qua oggi è un biker e lo salutiamo al nostro modo ogni tanto con lo scarico originale raga rilascia qualche colpetto dallo scarico che è è una cosa abbastanza figa ora la proveremo tra le curve dei bricchi di Genova bisogna togliere la cera perché ancora mio fratello l'ha usata poco piegare ancora non piega perché ci sta è già tanto che sono riuscito a convertirlo da scooterista a moto ciclista quindi magari la cera gliela levo io oggi così sta più tranquillo perché dice che la sente scivolare ed è normale quando uno inizia ad andare in moto mi sembra di cadere sempre le prime volte invece si sta non c'è tutto anche in curva raga devo essere sincero imposta davvero molto bene nonostante i 213 kg in questo caso con il 95 di mio fratello devo essere sincero sto guidando davvero molto con piacere questa moto qua bisogna stare attenti a non farla morire di motore perché a questo punto se muore un po' ci mette un po' a riprendere ma vedete ci mette un po' secondo me la modifica della centralina lo scarico ci può stare in questo caso perché io che magari ho uno stile più corsaiolo mi troverei un po' in difficoltà se la moto fosse sempre così però c'è anche da dire che essendo una moto però c'è anche da dire che essendo una moto adventure turistica ci può anche stare non è una moto da fare le corse da fare le gare sicuramente è una moto da viaggio quindi ce la potremmo godere sicuramente molto di più questo non saluta brutto stroppo e vedete adesso qua sono asciuti terza quindi marcia lunga e è morta un po' invece se prendiamo tutto in seconda bene o male riusciamo a gestire la moto sicuramente meglio in uscita di curva il posteriore della moto da originale quindi non essendo ancora stata settata lo sento molto ballerino magari se si fa le regolazioni in base al tempo sarebbe meglio dalla persona che la guida in modo da gestire questo tra virgolette consentitemi il termine di fetto vedete in terza salita già muore è anche vero che siamo in due con un peso non da poco si mette davvero un po' soffre un po' vedete che ci entra si mette un po' ad entrare in coppia non è vero che è entrato un una bestia di satana dentro l'orecchio quindi mi devo un attimo fermare perché l'ultima volta sono stato massacrato da un ave fermo qua che c'è la piazzola perché lo sento camminare bastarda scendi un attimo Manu allora scendiamo un attimo che c'ho una bestiaccia di satana che è entrata dentro il casco tutto perché per parlare ok adesso è presentata per 75 kg la moto nasce esce dalla caratteristica 70x75 kg in questo caso abbiamo questo omone dietro io ho messo in questo 95 dietro nessuna curva la senti tanto molleggia l'ho detto prima l'ho detto è molto molleggiante col peso dietro quindi ti da un po' di insicurezza insicurezza magari no però molleggiando così tanto per quello dietro dai che iniziamo a fare due curve va ci sei? ci sei? ci sei ci sei? ci sei là se stiava si prende davvero con non si stendono quasi vedete davvero ammortizza molto bene la forza della 50 mm lavora davvero molto molto bene vedete come sta impiando un po' comunque a un'impostazione molto lenta però raga tutto sommato la moto si comporta molto bene anche in piega comunque è molto molto stabile e mi sto divertendo comunque abbastanza devo dire ovviamente raga per le mie abitudini una persona che comunque magari è neofita o comunque abituato a scutere un ottimo primo ingresso nel mondo dell'emozione motociclismo una cosa usiamo col chiedino vai raga come moto a me piace a me piace ora ci fermiamo un attimo qua dopo che nel frattempo aspettiamo le due figliole dobbiamo anche un po' qua lo sterratino ci sta raga ci sta una moto che a me non dispiace quindi po' anche a livello di sound raga non mi dispiace per niente davvero una gran moto mi piace bella ragazzi davvero davvero bella grande bella moto allora raga siccome ho trovato questo pezzo di sterrato qua ora niente di impegnativo però già che ci siamo faremo il video così prendiamo due piccioni con una fava ora l'avevo appena posizionata su una pietra per non farla cadere perché andremo a mangiare qui nei prati oggi però il testo lo faccio da solo quindi non più in due raga ok vediamo un po' come si comporta sullo sterrato niente di impegnativo eh raga non è niente di che poi io non sono uno che fa enduro quindi vi posso dire come mi sembra a me ma non prendetela con diciamo che la moto si comporta bene quindi da un'ottima sicurezza lo stesso ovviamente raga non andrò fortissimo perché non è la mia la moto non voglio sdraiarla per terra subito la nuova e però secondo me raga ci può stare sta moto qua ci può stare è una moto con cui fai davvero tutto fai sia sterrato strade bianche ecco magari su roba grossa potrebbe andare in difficoltà però secondo me su roba tranquilla è tranquillamente gestibile tipo questa io davvero mi sembra di andare su strada non è vediamo anche i buchi secondo me magari giriamo un po' adesso questo bestione qua poi diventa magari non so dove girare dove va sta strada quindi torniamo un attimo indietro che bestione non sono abituato raga sono abituato a moto sicuramente più leggere oltretutto raga state connessi perché sto vendendo la dorso duro e il cbr come tanti sanno ci tengo più di ogni altra cosa al mondo però è arrivato il momento di cambiare quindi arriverà qualcosa di nuovo di zecca anche per me ma vedrete 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 perché una motina niente niente male ha qua anche la posteriore la posizione diciamo da in piedi quindi come in questo momento qua secondo me è molto valida bella 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 sta moto qua ammortizza bene davvero bene anche fuoristrada diciamo che nell'off-road dice davvero la sua raga bella bella raga mi piace mi piace diciamo che come moto da tutti i giorni me la comprerai per andare a lavorare per fare diciamo viaggi con la fidanzata sarebbe una moto davvero ottima bella gorilla bella 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 è come guidare su strada normale spettacolare dite agli iscritti di iscriversi no no iscrivetevi ah scusami ok raga video termina qui le cose che penso della moto ve le ho dette secondo me è una gran moto ovviamente abbiamo fatto un test in due porterò anche magari un video dove la proverò da solo così vediamo le differenze tra essere col passeggero ed essere singolo la moto secondo me è davvero davvero ottima il motore l'ho detto c'ha un buco un pochettino quando in apertura tra i 3 e i 5 mila giri muore un po' però secondo me essendo una moto comunque adventure una moto turistica non serve granché questa cosa io direi che a mia impressione la modifica che farà lui con centralina e scarico completo è il top perché magari andiamo a risolvere quel buco che c'è in quei quei giri e la moto andrà sicuramente nettamente meglio nel livello anteriore secondo me la moto lavora davvero molto bene la forcella fa un ottimo lavoro sul posteriore invece ragazzi adesso che io l'ho provata in due con un peso comunque di 95 kg non essendo regolata per questo peso secondo me è regolata comunque quanto mi diceva mio fratello che gli ha detto il concessionario è regolata su un peso dai 75 kg magari appunto in base al vostro peso potreste regolare il mono dietro in modo da che lavori meglio sia più rigido o più morbido in vari casi quindi secondo me l'unico di fatto che ho trovato io è un po' molla sul posteriore avendo il peso dietro quindi per il resto io mi sono divertito un sacco è una gran moto quindi raga fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa super moto Morini e ci vediamo al prossimo video